06 06 06 chi risponde ma soprattutto da dove risponderà ebbene risponderà dalla calabria il servizio è stato completamente delocalizzato come gruppo capitolino momento 5 stelle come commissione revisione della spesa domani alle 10 e 30 in largo loria vorremmo vederci chiaro e quindi ci sarà una seduta partecipate a